E' il piacere, il piacere, i giorni del piacere, i giorni del piacere. Pochi minuti dall'inizio della prova d'assieme di Don Carlo, l'opera di Giuseppe Verdi scelta per celebrare il quarantesimo compleanno del Teatro Regio. Un cast stellare per il Don Carlo, Ludovic Tessier, Hildar Abrazzato, Daniela Barcelloni, Madara Fretti. Sul podio Gianandrian Oseida. Don Carlo, venti minuti alla prova generale, le dà lo iodice, dà gli ultimi aggiustamenti alla coreografia. Don Carlo, un grande affresco storico. La Spagna di Filippo II, quella drammatica dell'Inquisizione. La Spagna di Filippo II, quella drammatica dell'Inquisizione. E' finita la prova generale di Don Carlo, applausi, la prima pillola di passione di Catalopea di Verdi che abbiamo scelto per celebrare il nostro compleanno. Finisce qui, a presto, Paola Giunti, Torino, Teatro Regio. Grazie. 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 Grazie.